ciao ragazzi qui mi è arrivato un pacco non l'ho ancora aperto ho tolto l'etichetta perché sennò si vedeva l'indirizzo e qui non è ancora aperto ok all'interno c'è qualcosa di molto speciale ok ragazzi io adesso sto facendo anche una serie su instagram a proposito andate a seguire leo toys trattino basso official yt ok perfetto ciao ragazzi allora sono molto emozionato perché questo è il pacco in questione non è ancora aperto l'abbiamo solo aperto qui intanto sto facendo anche un video su youtube questo è il contenuto del pacco davvero davvero fantastico il mio nuovo telefono signori e signori iphone 12 pro 512 gigabyte ragazzi sono felicissimo allora qui c'è la classicissima pellicolina simpatica che spacchetteremo sempre insieme e questo è il momento più 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 bello ok andiamo a spellicolare momento di spellicolamento telefono spellicolato momento dell'apertura o mio io io questo è il mio nuovo iphone ciao bellissimo che cosa abbiamo design by apple in california le airpods non ci sono più perché le hanno tolte il cavetto non c'è il caricabatterie come vi accennavo ieri adesivi adesivo apple e chiavetta per la sim ragazzi ma com'è bello mi tremano le mani ma me non ci credo adesivo apple e ho un'altra cosa per te apri 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 devo avere paura intanto non te l'aspetti si ciao questi quando sono arrivati? mattina grazie grazie sito apple grazie grazie davvero apple cioè ma io che devo dire ma questo va tolto o no? secondo me non va tolto non fare pasticci secondo me fa quel cosa per credo vada credo vada pieno non so se va tolto quel cosa per caricare leo non fare niente bisogna tenerlo secondo me si e poi qui c'è il caricabatterie che non danno più in dotazione questo è il caricabatterie del mio iphone ora finalmente posso dire di non avere un huawei p9 questo è il telefono faccio pure insieme e mi è arrivata pure la custodia e il caricatore che abbiamo preso a parte e quindi telefono custodia come è bella questa custodia e oh che bello adesso dobbiamo accenderlo io non so come si accende non so niente ragazzi questo è ios io non l'ho mai usato vediamo come mi trovo intanto questa è la fotocamera ultragrandangolo fantastico oh che bello bellissimo adoro ciao guardate che figata da così da così quanto non so 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 perché perché ce ne sono tre ok come si vede? mi vedete bene? spero di sì ciao ciao